voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa carissimi amici radioascoltatori un caro saluto a tutti voi da denise arceri in occasione del suo quarantesimo anniversario il consultorio familiare di ispirazione cristiana di ragusa in collaborazione con la diocesi di ragusa e il patrocinio del comune di ragusa ha organizzato un convegno dal titolo 40 anni al servizio della famiglia e della comunità che si terrà il prossimo 9 dicembre a partire dalle ore 9 presso la chiesa dell'abbadia in corso italia 99 abbiamo il piacere di avere oggi studio la professoressa agata pisana presidente del consultorio familiare di ispirazione cristiana di ragusa ben trovata e grazie per aver accettato il nostro invito grazie sempre gentilissimi voi vengo con piacere dottoressa iniziamo proprio a descrivere in che modo è articolato il convegno nello specifico quali saranno gli argomenti trattati e i momenti che diciamo lo caratterizzeranno sì guardi abbiamo pensato di concepire questo momento come una festa cittadina dove presentarci ulteriormente alla cittadinanza anche se il consultorio familiare che esiste già da 40 anni è molto conosciuto abbiamo avuto migliaia di utenti in questi anni però l'idea è proprio quella di essere presenti anche con il nostro patrimonio di riflessioni di ricerca con una gioia da condividere ci sarà la mattina dalle 9 l'accoglienza poi le 9 e incominceranno due relazioni una sarà tenuta dal padre giovanni salonia psicoterapeuta che è uno dei fondatori del consultorio fra l'altro ed è un esperto nel campo della famiglia perché ha scritto recentemente danza delle serie danza dei pronomi proprio che è un trattato bellissimo su come accompagnare le famiglie e quasi tutti gli operatori attualmente in attivo qui in consultorio sono suoi allievi quindi diciamo è colui che dà l'impronta al nostro consultorio e ci intratterrà in modo particolare sul rapporto fra famiglia e la moris letizia poi ci sarà un intervento del di don edoardo algeri che viene da roma il presidente nazionale della confederazione italiana dei consultori familiari che invece parlerà proprio di come consultori vanno ad intervenire là dove ci sono le maggiori difficoltà per la famiglia seguirà un momento che io spero sia abbastanza intimo e che mi tocca proprio mi commuove perché daremo delle targhe agli ex presidenti e in modo particolare c'è una piccola sorpresa per don romolo taddei don romolo è il direttore del consultorio nonché fondatore da 40 anni continuativamente è una persona che proprio vive nel consultorio vive per il consultorio e là tutti i giorni non lascia mai che qualcuno chieda aiuto senza una risposta positiva e ci segue tutti anche noi operatori è proprio l'anima del consultorio e quindi abbiamo piacere di festeggiarlo ci sarà anche la proiezione di un video che racconta un po la storia poi alle 12 c'è la messa perché ringraziamo soprattutto il signore per questo bel servizio che ci permette di fare e poi riprenderà la giornata alle 16 e 30 con un breve concerto da parte di un gruppo si chiamano il quartetto kairos sono degli archi di due violini una viola e un violoncello avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa